Vedi tu, ma forse è del trapicolo lì. Ola, e quei grandi seduti, anche loro. Ah, senti tu anche quei grandi là. Ah, che belli. Guarda che spetta. C'è il anello, puntala. Cutala, quanti? Sulle mani. Tutti sulle mani. Tutti sulle mani, tutti. Anche i piedi se lo fa. Contempo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici. Quindici, quindici quorzini. Quindici quorzini, ok. Oh, quindici quorzini. Allora, qua vediamo sti quorzini belli. Allora, intanto, Cassentina, questa quorzina come si chiama? Adele, scrivilo subito. Adele, quanti anni hai, Adele? Quattro, ciao, quattro, signore. E tu, bella, come ti chiami? Chi? Come ti chiami? Tanto, tanto, amore. Quanti anni hai? Quattro anche? Quattro? Alza la mano chi ha quattro anni. No, che è la bara. Alza la mano chi ha cinque anni. Chi ha sei anni? E chi è più vecchio di sei anni? Tutti vecchi, tutti vecchi. Ciao, tutti vecchi. Tutti vecchi. Tutti vecchi. Allora, vediamo qui. Cosa podemos leggere qua? Una bella, la stroca di un Putin. Che leggera. Sempre mai contento di niente. Sua mamma gli diceva, Tu preparai spaghetti e pomodoro. No, hai voglio con il ragù. Tu preparai spaghetti e con il ragù. No, hai voglio con il pomodoro. C'è un'ora. Esa è la settimana. Demo che ti ho fatto il latte. No, hai voglio il tè. Demo che ti ho fatto il tè. No, hai voglio il latte. Chi è che fa così, degli altri? Chi è che fa così? Nessuno? Ah, ma qua vai. Allora, sto Putin e si chiamava. Piero, Piero lo chiamava malcontento. Perché lo chiamava malcontento? Dice Piero malcontento. Oh, se zero fosse cento. Oh, se vuoto fosse pieno e se molto fosse meno. Mi piasaria che lungo fosse corto, che vivo fosse morto, che il buio fosse chiaro e che il dolce fosse amaro. Ma se poi? Ma se poi? Oh, se la luna la fosse mesa mi piasaria tantissimo. Se il caldo fosse giasso e se la terra la fosse in cielo e se il mare la fosse in terra. Ma insomma, Piero, ma dov'è fare tì? Ma è roba amatica. Piero, Piero, lascia andare. Lascia il mondo come sta. Chi lo dice? Chi lo sa? Chi saresti più contento? Se lo zero fosse cento, se il vuoto fosse pieno e se il molto fosse meno piace a questa? Sì. Ma chi deve farci? Chi ha il drome sa? 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 Sì. Allora, come vediamo qua, invece, l'avete visto il libretto? Sì. No. Ma bisogna andarlo a vedere perché è massimo. Ma io sto libretto qua. È proprio bello, bello. Ma bisogna andare. Parla in dialetto. Guarda, parla in dialetto, ma anche un po' in italiano, come che parla la beffana. Senti cosa che ha detto questa beffa, la stroca di alfana. Le ha detto. Un, do, tre. Ripeti. Un, do, tre. Ma insieme però. Un, do, tre. E il papa non è il re. E il papa non è il re. E il re non è il papa. E il re non è il papa. E il pan non è il fugascia. E il pan non è il fugascia. La fugascia non è il pan. La fugascia non è il pan. E ancora non è il doman. E ancora non è il doman. Doman non è il quò. Doman non è il quò. La vecchia non è il vecchio, il vecchio non è la vecchia, il parolio non è una teccia e la teccia non è un parolio. E la teccia non è un parolio, scappa il gatto s'gran fignolo, scappa scappa dal cammin, la vecchetta levi sin e la arriva a mezzanotte, preparare i do pagnoti. Che forte è ciò, do pagnoti e una bisciola, fare il cielo e bella toglia, fare il cielo e bella toglia. Io mangiare la bisciola prima, che era buona, guarda nessuno che mi ha portato un tocchettino, nessuno che ha detto aspetta che ha portato un tocchettino da bisciola a Befana, guarda. Adesso andavo fruettone per fare una bella magia, devo amare, bella magia. Via 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 via. Vai ora, dai via. Vai ora, mi ho portato altra roba. Porta, sto sacchettino, sto sacchettino. piccolo, piccolo. Quanto adesso chiedi qualcosa dentro? Che niente? Qualcosa? Metti bene dentro Emma, aspetta aspetta che me ne mi fido. Aspetta che ne mi fido che a voi vedete. È qualcosa dentro? Aspetta che guarda, non è niente. È proprio vado, 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 vado. C'è qualcosa? Controllare bene, eh. Vuoi controllare anche tu, Serena? No. Qualcosa? Serena? Ti faccio? Forse sì. Forse c'è, per vedere. Sono sempre qua io. Guarda i tibetini. Cosa? Cosa? Guarda qualcosa, che non è vero. Cosa? Cosa c'è? Vai vedere. Cosa c'è? Vai vedere. Cosa c'è? Allora. Dai, basta via. Dai, in te, ah, devo... 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 Ah, ma qua. Allora, mettiamo... Questo. Per Dio. Per Dio. Eh, sì, sì, è vero. Passo e... Ma che ti dici? Dai, che ora è lì? Allora. Vado. Vado. È dentro, via. Tutto dentro. Aspetta via. Adesso vado a fare una magia. Ah, sì, c'è. Dov'è appogliare il piripipi? Ma che ora è il piripipi? L'appogliare il piripipi. Pira fuori, appogliare il piripipi. Senza appogliare il piripipi che si può fare... Ecco qui, petta, il piripipi. Aspetta. Bisogna dire, un, due, tre, e subiare tutti. Semi apronti? Uno. Due. Tutti insieme. E poi bisogna subiare. Via. Uno. Due. Due. Tre. Suppia, suppia! Suppia, 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 suppia. Suppia. Suppia, suppia! Suppia, 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 suppia! Ma che vuole fare? Eh! Guarda che spettacqua! E sparì, faccio un applauso! Bravo! E adesso... Non mi ha bisogno farlo tornare perché mi sa bene era freddore che ho bisogno di soppiare il naso. Pronti? Uno, due, uno, due, tre. Ma è partito via tutto. Vediamo? Vediamo? Beh che bravo stomaco, fai un applauso. Bravo, bravo. Allora adesso, vada questi putini con il caffè. Adesso, perché la befana è poverita, la befana è poverita, sono i mandarini, le baggite. Sì, aspetta che devo dare un mandarinio ai questi putini. Dì, mi amore. Eh sì, sono ancora 4 grandi. Tu dai, è tua mamma, ci ci sono. Fatti dare uno e a te. Sì, abbiamo preso.